Creativi, se vuoi dare il meglio, inizia da dentro. Prenditi cura di te ogni giorno con Activia Zero, con 4 miliardi di probiotico bifidus, che aiuta l'equilibrio della flora intestinale. Tanto gusto e zero grassi, perché se il tuo intestino è in equilibrio, ti tratta meglio che tu. Activia, tutto inizia da dentro. Prova il nuovo Activia Super Shot, con tanto ghiaccio e il doppio del probiotico bifidus del tuo Activia di sempre. Tutto inizia in uno shot.